C'è presente che sono da solo in camera al buio Cuffia tutto il volume C'è quello che faccio in casa? C'è l'unica responsabile per l'escrizione del padre? C'è l'unica? Nel basso? No, vorrei non pensare di quale l'escrizione era Ok, la stanza diretta del padre è dove? Oh s**t My head Non puoi arrivare qui! Scusami, tu s*****! Non puoi essere qui! C'è l'unica? C'è l'unica? C'è l'unica? Si chiedono che non succederà ancora! Si chiedono Dio... C'è l'unica? C'è l'unica? Tu non sei solo C'è l'unica con me C'è l'unica? C'è l'unica? C'è l'unica con me Ehm... Ehm... Ah no, vabbè Questa non me lo fa prendere Scendiamo a fiammiferi Andremo avanti a fiammiferi Lo sapete avere Ehm... 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 Tu qua tu c'è scritto? Ehm... 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 Ok... Perfetto... Via! Ok Non ci cagheremo in mano a sto giro Basta Mi sono rotto le palle Io Io vi faccio vedere che sono uno con le palle E si spaventa di nulla Solo che io Io mi spavento per intrattenervi Se no vi annoiate no Ma queste cose le posso levare? Ah pensavo si attacasse le Ah Beh Mi sto già cagando los Do What? No Super peggio Oh Jesus Sono salvo A toi che ansia Ah gesù Ma culo Oh 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 Pianco Pianco Mi sento che questa casa sta cercando di uccidere Questa casa sta cercando di uccidere Ma fortuna che c'è C'è la Madonna Ci proteggerei vero Aspetta la lasciamo qui L'appoggiamo qua Un attimo stai ferma lì Beh Beh In caso Mi piacerebbe non uccidere uno Senza l'emozione non ci saranno molto aiuto Ah non è l'emozione Cos'è Tal Bellissimo Mi piace come se così Incazzato Chiudi Ok Chiudi C'è ma scusa lui c'ha la pistola ma non ha le munizioni Perché è quello che ha detto C'è un'altra Durano troppo poco Examine 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 Perfetto Eh via Aspetta qua accendo questo dai Gesù Maria C'è un'atmosfera pazzesca l'uomo sto gioco Fosse stato tradotto Doppiato Guarda Veramente Ne avrei completato dieci copie Purtroppo si perdono Nelle stronzate Come in questo caso Nel non doppiarlo Nel non tradurlo Ehm Chiudetevi Ecco Che cazzo Porca loca Ok proseguiamo No premelo Madonna Vieni con me Devo appoggiarlo Ah ecco devo aprire Ding Ale Easy Vieni con me tu Purtroppo Parvi se che Che Deve Non riesco a usare Oh bello fuori ok apriamo la madonnina guarda se mi sento in pericolo gliela lancio addosso qualcuno ma c'è una messaggi nascosti ovunque ma butta eagle eye ok facciamo attenzione questo accendiamo ma elevati e via ok abbiamo parecchia roba ok credo ancora non c'è rimasto niente la madonna mi protegge so per certo posi un attimo qua vieni con me no vieni con me ok ok calmo ah gesù gribbio che puttana non mi ha difeso no non può essere non può essere vero ah gesù gribbio perché dicevo che sono sicuro ora se viene tornato oh signore no sto giro difendimi non mi ha difeso oh oh mi ha fregato eh oh ma io quello non l'avo tirato giù ok fa la guardia questo è proprio chiuso chiuso ok penso io aspetta devo mettere un po' di di kerosene ok ora apriamo questa dannata boke buonina tu mi proteggerai lo so so che ti devo posare ogni volta che devo raccogliere qualcosa perdonami ok dovresti essere able to get into another room from here oh come ah eh uh forza signorina anche questo devo togliere no questo no vieni con me no eh vado a dire non ci proteggerà no forse ce l'ho ancora in mano non lo so mi scrive throw rotate guarda eh ah è ancora vivo con l'idiotto combattimento fra titanei questo questo non è reale no non è reale io pensavo in realtà mi sbucasse qualcosa per farmi svalentare eeeh abbiamo saltata forza non vedo nessun modo di interagire con tutto si ma ho perso la madonna ah è giusto oh oh eh questo è vero il sangue il metal rod questi non sono fantomi non ho perduto la mia mente non questa volta ah lo posso prendere in mano che lo devo mettere qua le mie robo geniali è vero è vero una delle abominazioni che i giudici hanno 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 oi oi c'era un giudice che veniva a la nostra casa qual è il suo nome il suo nome Norton aspettare un minuto è lui è lui è lui è lui è lui è lui ero Il primo in il capo. Il ha seguito il giudice. Quindi magari ha fatto lo stesso con mio padre. Io vi ricordo i loro passi. Magari posso trovare qualcosa di risposta di mio padre. E di tutto i altri persone che perdono. Non ci siano. Come in mondo si è arrivato? C'è un meccanismo che bloca la porta. E' sembra che alcune parti perdono. Ok, ah ok ho fatto la roba Apresi di più? C'è qua la roba in mezzo Troppo, lì Gesù Maria Il giudice sta spaventando fortemente Sì, lo procura per l'aiuto E io meglio do l'aiuto Oddio Eh vabbè non mi fanno più rispaventare da sto lato ormai Mi ho già fregato Per quello non ci riprovano Scendiamo due candeline perchè E sto schifo, vai giù Oh Cristo Altro che cosa? Potrei usarlo per trattarlo E sto schifo Guardaci In tutto ciò lui si è preso una pistola ma Non gli servirà un corno perchè scarica Un genio Perde sangue come un maiale Ho credo di aver bisogno della Della torsia in questo momento Per un lungo termine Allora Si va all'inno Pensi che fosse fermata da molti anni fa Oggi si è male Grande E' lui l'unico nel mondo che accende Un fiammifero e con questo vento rimane acceso il fiammifero Incredibile Che cos'è quella roba? Oddio pallottole Ma scherzi? Oh mio Dio Proiettili? Come? Questo gioco sta arrivando a stupirmi ancora di più Più del solido eh? Più del solido eh? Prendi Non arrivi più vicino Non mi fa fare questo Ma non ha fatto nulla Oh 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 Uh What? Si sono pure le pistole Ma l'ho beccato Ma cosa? L'ho mirato bene Che cazzo volete Che cazzo volete Per quanto? Tower Dove cazzo è? Oh altre munizioni che bello Oh shit Piccolo sciacco Ma posso mirare bene? Ah beh si Miro così Vedi che lo prendo? Quindi due colpi vuole sto strozza Questo è useless Mh 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 Ricarica Ricarica 1 o 2 colpi Ok Me ne ricorderò C'è un corna Lo trollo anche per l'emunizione Ok Ok Ma questa Dalla luce Questa è la luce Questa è tornata E' tornata E' tornata E' tornata La faccia di sangue Correndo Con un matto Caffetto Sono arrivato Come faccio a passare mo? Oh Non aspetta lo stonzo Ah Oh Carcattroia E' stato cagare Oh signore Via Via Oh Da dove cazzo passo? ah era da qua all'entrata capito un genio e ha fatto bene lasciarti morire oh signore ho fatto una nuova riscossa da qua per cazzo è eccolo bella mira what do you want ok mi starò guidando secondo le tracce di sanguino lasciami solo si l'ho capito a guarda sicuramente si era già morto di sanguato dopo aver perso tutto sto sangu però ok è andato lì dammi le munizioni sono mai abbastanza anche queste ok ok ma qui l'ho salvato oh in bocca oh in bocca morirà mai sembrava molto più vicino quando quando l'ho mostrato in realtà eh stiamo andando stiamo andando stiamo super salve oh mio dio quanta gente oh spiello bici oh mancato mia no l'ho preso perché di cazzo vuoli fame di merda vuoli merda ma per te che vuoi vuolire se vuole morire non accendo a morire non accendo a morire ma l'ha ricaricato sto imbecille oh mio lord oh signore entriamo ma no quasi ce l'ho da a ridere guarda ma sono sicuro che Fischer racconta qua no dove si è andato a morire io ho scusato oh è successo ancora non è 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 come padre come son è tu che morire è non è certo non è diciamo non è non è non è eh oh oh mio dio che troppo se questi telegrami mai saranno decodati ho dovuto prendere ogni chance ho notificato david, questo avrà il suo mente ho fatto più progressi che il suo team ha in mesi They are watching, ok ben tornati comunque sto gioco è spettacolare in quanto fa cagare in mano? ah ok devo chiamarle david oh david? Adam ha trovato qualcosa come è possibile? H swore they were at the dead end keep an eye on him, we'll be in touch Fuck, they must have tapped my line How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me Maybe they did get Harold after all Thankfully I can check where they're tracking me from If I'm not wrong, the detector should be in the office Ok Find the quantum cloud And the other Are you trying to kill me again? I don't wanna sound hysterical but I saw someone What are you talking about? Someone's here, in front of the house But maybe it's someone from the office? You know about work? David would tell me Son of a bitch, it's all so clear now You don't think that I do They wanna get us so nothing would surprise me A few days ago someone was hanging around here too I-I caught a glimpse of him behind the trees And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination I didn't... Want to spread panic We've got enough to worry about as it is Fuck Emma I don't work in a bakery I work for fucking spies It's not like we can just go to a mountain cabin And be safe Stay in the house Lock the doors and windows I'll take care of this I should use the localizer And see if I can find something nearby No, wait, I'm walking around here From here, from here, from here From here, from here From here Wow We're inside Here, here, here Where are we? Where are we? That fucking bastard is so confident that you approach the house to spy on us Maybe if I can find more traces Where are we? Where are we? What's wrong with the bus? The water's blue The signal is very clear The cloud quantum quantum should be right around here The way to go E' un giro strano... di qua... Eh dai! Ecco! Maledetti Quick Time Heaven! Miraggio e giro! E' qui sopra! Meglio di CSI comunque! No! L'ho mancato! Aspetta! Sopra! Come diavolo c'è arrivato? Ah! Ecco! Ma... Levati! Ehi! Dai uomo forzuto! Ok... E' triplo! Vai! No! Tira! Non è da questa ma è da questa! Mi so! Ma non posso... Qua ci arrivo! Ah no! In realtà si! Uh! Oh ma guarda un po'! Ruide! Casa dolce casa? Sì! 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 Molto ben organizzato direi! Molto ben organizzato direi! Questo! 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 Non loose me so easily you bastard! Stop! Hear me? Follow the spy! Uff! Quasi morto! There he is! You can run but you can't hide! Ah! Oh my god! There you are fucker! You're not losing me so easily! Oh my god! Si è chiuso lì dentro! La roba è normale! Ok! Non so che ho fatto! E' chiuso! Ecco! Oddio! Non credo sia il massimo che ce l'ho eh! Emma! Siamo dentro la caverna! Chasing a spy through a cave! Fuck! What would have been a joke a week ago Is not reality! Potrei far saltare in aria la caverna! Così ci rimaneva dentro a vita! Aspetta un minuto! E' lui! Cazzo di merda! Beh! Di lì non possiamo passare di certo! Quindi dobbiamo fare il giro! Ma non c'è fretta in realtà di inseguirlo! Abbiamo! No! Non abbiamo fiammiferi, torce, non potevi fare come tuo nonno Per procurarti ste robe Che fantastica avventura Un pezzo di merda Comunque non c'è niente di peggio che giocare O comunque giocare a titoli così Ma anche ascoltare musiche con gli auricolari Che hanno i gommini ai lati Cioè veramente odiosi Mi saltano fuori dalle orecchie Come di pop corn praticamente Che fastidio Almeno non arrivino le cuffie nuove Scusa ma E' giusta la strada Non voglio rimanere a corto di aria Se vivo è incazzato Che roba vecchia Non so se notate ma la qualità di questi video è altissima Ma praticamente sto portando un video Con un bitrate di 50 mega Una roba del genere Il che lo vedete perfettamente Non c'è niente fuori post Mi mancava registrare su pc Con queste impostazioni Perché ovviamente registrare da pc Vi porto il gameplay con molto più grafico Mentre per playstation 4 Beh Ho già contattato chi di dovere Per farmi avere le nuove Che di pvr Registrare con molta più qualità Quindi anche lì Sarebbe sistemati Mi sa di trappola questa Forse no Eh sì vabbè Non sembra più stabile Piano Non sapevo Non sapevo Non sapevo Ah Non sapevo Ah 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 F*** That was close Everything wants to kill me in here Non si è arrivata la spia Schiacciarci le mani Beh Sarebbe stato da ridere Guarda E qua Oddio Paura Ma no Non c'è niente di aver paura Finalmente Porca merda Mi stavo cagando ugualmente Mi stavo cagando ugualmente